Mangiare senza glutine è una moda o una sana abitudine? Sono Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti e primo medico italiano certificato in medicina anti aging. Si è parlato tantissimo in questi ultimi anni di dieta priva di glutine. Negli Stati Uniti per chi di voi viaggia si trovano prodotti gluten free ad ogni angolo e spesso sono prodotti discutibili sul piano del loro effetto sulla salute ma viene così messo in grandissima evidenza il fatto che sono privi di glutine come se questo fosse come dire un sigillo, un bollino di qualità assoluta e sono stati scritti anche tantissimi articoli su questo tema, alcuni atleti si sono esposti su questo tema dicendo che l'eliminazione del glutine che una dieta priva di glutine li ha portati a livelli molto più alti di prestazione ma quanto c'è di vero in tutto questo e quanto tutto questo giustifica in persone comuni l'eliminazione totale del glutine nella dieta. Anche perché si può anche capire che le persone da un certo punto di vista siano un po' confuse visto che per decadi c'è stato detto che alla base della piramide alimentare dovevano esserci i cereali e un ruolo predominante di questi cereali era riservato alla pasta, al pane e ora invece ci viene detto che il glutine va assolutamente eliminato, beh da un lato dimostra come la scienza ovviamente si evolva ma dall'altro anche lascia un po' le persone confuse. Allora partiamo dal decifrare per un secondo che cos'è il glutine. Il glutine è una miscela proteico-viscosa fatta sostanzialmente da gliadina e glutenina che si forma quando un cereale viene impastato con dell'acqua. Il glutine è importante perché dà una certa consistenza al materiale che andremo a mangiare ma non fa assolutamente nulla nel nostro organismo. Quindi la prima cosa che dobbiamo dire è che è assolutamente possibile mangiare senza glutine. Non facciamo confusione, ulteriore confusione nella testa delle persone dicendo ah no la dieta senza glutine è pericolosa perché finisci con non mangiare sufficienti quantità di carboidrati o di cereali. La cosa non c'entra nulla. Si può benissimo mangiare senza glutine, il glutine non serve a nulla e si può continuare a assumere la quantità corretta di carboidrati scegliendo quelle versioni di cereali che sono naturalmente prive di glutine. Il riso, il mais, il grano saraceno, il miglio, l'amaranto, la quinoa sono tutti esempi di cereali o pseudo cereali che possiamo utilizzare benissimo nella nostra alimentazione e che sono naturalmente senza glutine. Sottolineo il naturalmente perché non vorrei che qualcuno fraintendesse, dicesse per eliminare il glutine scelgo di mangiare gli alimenti per i pazienti celiaci. I pazienti celiaci sono l'unica categoria di persone che devono assolutamente eliminare il glutine ma questo è voglio dire sottinteso. A volte questi pazienti scelgono di sostituire quegli alimenti che devono eliminare con delle versioni che sono private della presenza di glutine. Io non lo considero la scelta più intelligente perché sono spesso alimenti lavorati e super raffinati. La natura ci dà tutta una serie di alimenti che sono di cereali e pseudo cereali che sono naturalmente senza glutine, dunque perché non scegliere semplicemente quelli. Ma se scegliamo questo, che cosa effettivamente, cioè di mangiare senza glutine, che cosa effettivamente possiamo aspettarci? Allora la prima cosa che dobbiamo dire è non possiamo aspettarci che questo comporti una perdita di peso. Chi sostiene che una dieta priva di glutine sia una dieta dimagrante sta dicendo una cosa che non è corretta perché se io scelgo di togliere dei cereali con glutine e mettere dei cereali privi di glutine nella mia dieta, ma diciamo la quantità complessiva di cereali e di calorie nella mia dieta non varia, non è che perché ho tolto il glutine ottengo una riduzione del peso corporeo, quindi non serve a questo. Però qualche altra azione utile potrebbe averlo. Esistono infatti dei dati che indicano come il glutine potrebbe avere un'azione infiammatoria nel nostro intestino anche nelle persone che non soffrono di celiachia. Se così fosse alcune, almeno una parte delle persone che soffre di gonfiore addominali, di disturbi funzionali del tratto gastrointestinale potrebbe oggettivamente trarre un beneficio dall'eliminazione del glutine. Mettiamola in questo modo, il glutine potrebbe contribuire in un certo senso ad aumentare il livello di infiammazione nel nostro organismo, quindi tutto sommato non è sbagliato visto che l'infiammazione è una delle componenti che porta a una maggior facilità di patologie cronico degenerative ed è anche in un certo senso uno di quei processi che governa l'invecchiamento, potrebbe aver senso non necessariamente eliminare del tutto il glutine o diventare in qualche modo ossessivi con l'esposizione al glutine, ripeto sempre che uno non sia celiaco, ma perlomeno ridurne la quantità nell'alimentazione variando un po' di più l'apporto dei cereali che utilizziamo e aggiungendo magari degli pseudo cereali. In parole semplici, invece di stare sempre e soltanto tra pasta e pane, in particolare in Italia, forse possiamo avere il coraggio di esplorare anche qualcos'altro, indubbiamente il riso integrale è una componente molto buona e in Italia il riso lo si usa ma si potrebbe usare di più a discapito di un po' di pasta e poi si potrebbero inserire appunto la quinoa, l'amaranto, il miglio, il grano saraceno come variazioni in più. Allora in sostanza la dieta senza glutine non è un miracolo, non fa dimagrire di per sé, però potrebbe contribuire a ridurre il carico infiammatorio dell'organismo e potrebbe ridurre la presenza di determinati sintomi funzionali in particolare a tratto, in particolare diciamo quelli del tratto gastrointestinale. Quindi la mia opinione è perché non provare senza diventare ossessivi ma magari ridurre un po' il glutine e inserire degli alimenti nuovi può essere anche un modo di variare la dieta. Ogni settimana produco contenuti nuovi utili al miglioramento della tua prestazione psicofisica, della tua salute e in ultima analisi utili per vivere quello che io definisco una vita a pieno. Questi contenuti vengono prodotti sulla base di un'analisi molto ampia delle più avanzate ricerche a livello internazionale. Se ti è piaciuto il video che hai appena visto ti consiglio di fare tre semplicissime cose. La prima è iscriverti al mio canale YouTube, lo puoi fare seguendo il link che trovi qui e questo ti permetterà di ricevere ogni nuovo video che viene prodotto automaticamente. La seconda è di andare sul mio sito, lasciare la tua mail in modo tale da essere continuamente aggiornato sui nuovi articoli che scrivo e sui nuovi studi che analizzo e che ti propongo. La terza cosa è di andare sulla mia pagina Facebook e cliccare mi piace in modo tale da entrare in contatto con me nella vita quotidiana. Lì potremo scambiarci opinioni, pareri, potremo discutere di vari temi. Tre semplici cose se ti è piaciuto il video che hai appena visto, falle così restiamo in contatto.